La psicologia afferma che il 95% del tuo potenziale è celato all'interno dell'inconscio. Questo significa che hai accesso solo a una piccolissima parte della tua coscienza. Tutto il resto è nascosto dentro di te, in attesa di essere risvegliato. Esiste però uno stato di coscienza straordinario che ti permette di accedere a questo infinito potenziale, attivando le onde cerebrali θ. Le onde θ hanno una frequenza molto calma tra i 4 e gli 8 Hz. Queste onde cerebrali sono connesse all'inconscio e normalmente si attivano solo nella fase REM del sonno, ovvero quando sogniamo. Eppure, in rarissimi casi, riusciamo ad attivare le onde θ anche in stato di veglia, magari quando entriamo in uno stato di coscienza straordinario. E può accadere quando sei sotto ipnosi, in uno stato di trance, oppure mentre sei magari semplicemente in uno stato di rapimento estatico. Ammiri un tramonto, fai l'amore, ricevi una scarica di adrenalina. In quei momenti sei completamente nell'esperienza. Non ci sono i delimitanti, giudizi, calcoli, aspettative. Ci sei solo tu, tutt'uno con ciò che vivi. Libero di esprimerti fluido, presente, forte, completo, felice. Questo è ciò che sperimenti nelle onde θ ed è il tuo pieno potenziale. Sei tu. L'Università di Sydney afferma che questo stato aumenta la creatività del 430%. McKinsey & Co. afferma che accresce la produttività del 500%. L'esercito americano afferma che velocizza l'apprendimento del 490%. Ma i benefici non si fermano qui. È stato studiato scientificamente che le onde θ rigenerano il corpo e la mente, rafforzano il sistema immunitario, generano un rilassamento profondo, riducono lo stress, accrescono l'intuito, migliorano il problem solving, rafforzano la memoria ed equilibrano l'emozione. I benefici sono così tanti che viene spontaneo a porsi una sola domanda. Come possiamo attivare le onde cerebrali θ e vivere in questo stato ogni momento della nostra vita? La meditazione è sicuramente lo strumento migliore che conosco per allenare il cervello ad attivare le onde θ e imparare ad entrare in questo stato psicofisico in ogni momento. In particolare c'è una specifica tecnica di meditazione fondamentale per raggiungere questo risultato che io chiamo meditazione parallela. In questa tecnica di meditazione attivi contemporaneamente i due sistemi principali del cervello. Il default mode network, che è situato prevalentemente nella corteccia prefrontale mediale e riguarda il dialogo interno della tua mente, si attiva di solito quando sei nel tuo mondo interiore, rifletti, immagini, fai un lavoro creativo, sogni ad occhi aperti. Dall'altra parte invece poi abbiamo il task positive network, che è situato prevalentemente invece nel sistema di attenzione dorsale e riguarda la tua relazione con il mondo esterno. Quindi si attiva quando sei concentrato su un'attività per raggiungere degli obiettivi. Questi due sistemi normalmente sono opposti. Quando uno è attivo, l'altro viene disattivato. Per esempio, quando sei concentrato su qualcosa, il tuo dialogo interno si quieta. Oppure se hai tanti pensieri per la testa, non riesci a concentrarti su ciò che stai facendo. Invece la tecnica della meditazione parallela ti permette di attivare contemporaneamente questi due sistemi, entrando in un diverso stato di coscienza. Analizzando questo stato psicofisico con la risonanza magnetica e l'elettroencefalogramma, hanno osservato che il cervello entra in una modalità unica di attenzione rilassata ed emette onde cerebrali teta. Se fatto bene, questo stato produce addirittura una specie di cortocircuito nel cervello e uno stato di trance, in cui la ghiandola pineale rilascia una sostanza chiamata DMT. Questa sostanza genera le esperienze mistiche che i praticanti esperti hanno durante la meditazione. Le tecniche più conosciute di meditazione parallela sono sicuramente la trascendental meditation, l'alchimia interna, il tantra tradizionale, il kundalini yoga e diverse forme di sciamanesimo. In queste tecniche si utilizza spesso una combinazione di visualizzazioni, mantra, tecniche di respiro e posizioni fisiche. Il problema di questo approccio è che non è facile trovare tecniche autentiche, perché molti degli approcci che ho citato ricadono quasi sempre in uno di questi due estremi. Da un lato abbiamo il dogmatismo, quindi gli approcci tradizionali che magari sono fatti di incenso, mantra, campane tibetane, che nonostante la loro grande ricchezza, spesso sono distanti dalla vita moderna. Sono incastrati in dogmi culturali, rituali antiquati e così finiscono per creare rigidità, confusione. Si cerca di imitare gli orientali, ma non si produce un reale cambiamento nella propria vita. L'opposto invece è la superficialità, ovvero gli approcci moderni alla meditazione, che al contrario sono spesso frutto di studiosi che estrapolano la tecnica arida, intellettuale e perdono però il senso più profondo di quella tecnica. Nascono così complesse tecniche trascendentali, noiose app, fantasiose teorie new age, che ti aiutano magari solo in parte nella tua esperienza e spesso causano problemi in altre aree della tua vita. Questo è il motivo per cui ho creato la Sautomeditation, la nuova tecnologia di meditazione per ritrovare chiarezza, benessere e felicità in soli 10 minuti al giorno. Questo approccio distilla l'essenza delle tradizioni spirituali millenarie, che abbiamo praticato per 40 anni a partire da mio padre, Riscita Locillo e poi io, completandola con le ultime scoperte della scienza, della tecnologia e della crescita personale. Il quarto passo di questa tecnica è incentrato proprio sulla meditazione parallela. Viene apportata al livello successivo di meditazione non duale, che è ancora più efficace. E in questo modo si possono attivare le onde cerebrali teta e accedere all'inconscio, così da imparare ad entrare in questo stato straordinario in ogni momento della tua vita. Puoi scaricare gratuitamente la Sautomeditation dal mio sito insieme a una masterclass gratuita di 4 giorni in cui ti spiego come utilizzarla. Nei commenti fammi sapere cosa ne pensi. Un caro saluto e sii felice!